Grand Hotel Budapest di Wes Henderson narra l'avventura di Zero Mustafa, fattorino di un lussuoso e famoso albergo europeo collocato nell'immaginaria Zubrovka. Gustav H., interpretato a Ralph Ennes, ne è il concierge, che gode delle confidenze di molte delle sue attempate clienti. Alla morte di una di queste, Madame D., eredita un prezioso quadro. Nonostante le accuse del figlio di Madame D., Adrian Brody, con la complicità del suo giovanissimo ne assunto, Gustav H. riuscirà a farla franca. In Mr. Morgan di Sandra Nettelbeck, il due volte premio Oscar Michael Klein indossa i panni di un pensionato americano, che, stanco di vivere, si trasferisce a Parigi dopo la morte della moglie. Mr. Morgan ha persino manie suicide, finché non incontra in autobus Pauline, interpretata da Clemence Poesie. Nasce così una particolare amicizia che li condurrà a riflettere sui propri affetti e sull'esistenza stessa. Oculus, il riflesso del male, è il nuovo horror a cura di Mike Flanagan, che narra le vicende di Tim e Kylie Russell faccia a faccia con una terribile forza sovrannaturale che abita in uno specchio. La loro vita è stata devastata dall'accusa dei danni di Tim di aver ucciso i suoi genitori, ma quando decide di lasciarsi tutto alle spalle, è la sorella a rintracciare l'oggetto per cercare di scoprire la verità. Con lo specchio di nuovo nelle loro mani, gli incubi della loro infanzia torneranno. Un matrimonio da favola è invece l'ennesima commedia corale di Carlo Vanzina. Cinque compagni di liceo si ritrovano vent'anni dopo la maturità in occasione del matrimonio di Daniele, Ricky Memphis, con la figlia del presidente della banca di Zurigo, presso la quale è impiegato. Durante il weekend in Svizzera, i protagonisti avranno modo di raddrizzare i loro destini e le loro infedeltà nella solita girandola di equivoci, situazioni comiche e rogamboleschi colpi di scena. Una volta saltati i precari equilibri delle loro vite, ognuno troverà finalmente il modo di esprimere la propria vera natura.